Momenti di ansia, lunghe ore di vita sedentarie, questi spesso sono i ritmi di oggi. Noi forse ci abituiamo, ma il nostro intestino un po' meno. Per questo c'è verecolene complesso, composto di erbe e altre sostanze efficaci per l'intestino pigro. Verecolene complesso, per una regolare azione lassotiva. Leggere attentamente le avvertenze, è un medicinale, usare con cautela.